Nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sialo dato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientie, Ora Pronobis. Oggi parliamo dell'apisside e del vaso delle abluzioni. Il vaso delle abluzioni probabilmente non sapete neanche cos'è, però l'apisside è forse più familiare. Ve ne faccio vedere già una. Eccola l'apisside all'interno del tabernacolo. Vedete il rivestimento interno del tabernacolo in seta bianca. Ci sono i lembi anche del conopeo che ricopre il tabernacolo, la porticina del tabernacolo. E questa è l'apisside che serve a custodire le particole. Sia prima della consacrazione che dopo la consacrazione. Una volta consacrate, l'apisside viene riportata nel tabernacolo. L'apisside si presenta nella sua forma come un calice a cui viene aggiunto un coperchio. Un coperchio che ha sull'estremità una piccola croce. Come il calice è composto da una coppa, che è questa, da un nodo intermedio per poterla afferrare e da un piede abbastanza largo e abbastanza pesante da permettere la stabilità dell'oggetto. Il materiale è in genere metallo, una buona lega di metallo. È obbligatorio che all'interno sia dorata oppure argentata e lavorata in maniera che sia liscia per poter poi raccogliere i frammenti delle particole e purificarla adeguatamente. La parola apisside deriva dal greco pyxis che significa bosso, in quanto evidentemente nei primi secoli era un contenitore di bosso, di legno di bosso, che si usava appunto per i cofanetti perché è un legno molto resistente, resistente anche ai parassiti e abbastanza isolante per quanto riguarda l'umidità degli ambienti esterni. In questa vecchia porticina di tabernacolo noi vediamo riprodotto in basso rilievo una apisside, una apisside con un telo sopra, aperto sul davanti. Questo telo è il conopeo dell'apisside, anche l'apisside ha un conopeo, cioè un velo, il velo copri pisside, si dice anche così, che viene assicurato alla crocetta che sta sul coperchio. Questa è un'abitudine molto antica di coprire l'apisside con questo velo o conopeo. In questa illustrazione vedete che ci sono dei modelli per realizzare un conopeo dell'apisside. i modelli praticamente sono essenzialmente due, uno circolare, qui lo vediamo un cerchio completo con un foro attraverso il quale viene fatto passare il piccolo crocifisso del coperchio e la tela cade liberamente. In questo caso è sempre circolare però è una sezione di cerchio oppure a croce, a croce con bracci rettangolari oppure a croce con bracci dagli angoli smussati. Quello che vedete adesso è un piccolo tabernacolo da viaggio che era molto in uso nel 1700, nel 1800 e questo permetteva di poter continuare ad adorare Santissimo Sacramento anche nei lunghi viaggi e anche portare la Santa Comunione agli ammalati. È proprio realizzato come un vero e proprio tabernacolo ma in miniatura, un mini tabernacolo. Ci sono anche i candelieri, se ne possono distinguere quattro almeno, due dorati questo e questo e altri altri due che non sono dorati. Poi c'è una piccola piscide all'interno e il rivestimento interno del tabernacolo, il conopeo e termina a cupola come i tabernacoli delle chiese. qui abbiamo il disegno che rappresenta una piscide piena di particole e qui appoggiato alla mensa è il coperchio con il suo conopeo che è un conopeo del tipo a croce. Qui invece abbiamo dei vasi sacri moderni, quindi successivi al Concilio Vaticano II. Come vedete si usa anche la ceramica, la ceramica che era proibita, sarebbe ancora proibita per la verità. Le regole lo dicono molto chiaramente, c'è da preferire il metallo, la ceramica è anche poco resistente. Ecco, a vederli così sembra un set di stoviglie che si possono trovare anche nelle nostre case. E' tutto coordinato, il vaso dei fiori, il candeliere, la lampada, il calice, la patena, la piscide, le due ampolline che sembrano quelle dell'aceto e dell'olio. Infine un nuovo oggetto che non c'era prima del Concilio Vaticano II ed è la cosiddetta ciotola, che ha una forma anche più allargata e più bassa in genere. La ciotola ha preso spesso il posto della piscide, è senza coperchio e francamente anche scomoda da afferrare perché bisogna inserire il pollice in mezzo alle particole perché non si sa come afferrarla meno. mentre la piscide aveva, questa non ce l'ha, il nodo a metà del piede. Quindi che impressione abbiamo da questo cambiamento, dall'inserimento di questi oggetti in ceramica così simili al vasellame di casa? Abbiamo l'idea che la Santissima Eucarestia si è calata fino a diventare una realtà comune. Lo slogan Gesù si è fatto pane apparentemente sembra esatto, no? Sembra che non ci sia niente di sbagliato a dire Gesù si è fatto pane. Ma una cosa è dire Gesù si è fatto pane, una cosa diversa è dire che Gesù ha preso del pane e lo ha trasformato nel suo corpo. Sono due cose molto diverse. Perché nel primo caso, dicendo Gesù si è fatto pane, il fedele si orienta alle cose di questa terra, al pane comune appunto. Mentre se io dico che Gesù ha preso il pane e lo ha trasformato nel suo corpo, il fedele si orienta verso le cose spirituali, il corpo di Cristo. Il fatto che i vasi sacri abbiano sempre più preso l'aspetto di realtà comuni lo dimostra. Dimostra quanto nella considerazione della gente, quanto in basso è scesa la Santissima Eucarestia. Ecco qui vediamo un tabernacolo con il suo conopeo verde. Evidentemente siamo in tempo ordinario, diremmo, no? Con la carta gloria appoggiata alla porticina. Qui c'è il piede della croce. Qui ci sono le basi delle colonne del tempietto, del tronetto. Qui a lato del tabernacolo intravedete un piccolo vaso con dell'acqua dentro, vaso di vetro, con un coperchio, una croce sul coperchio e un piccolo purificatoio. Questo è il vaso delle abluzioni. Eccone un altro accanto a un tabernacolo. Il vaso delle abluzioni non esiste più. Negli anni settanta è praticamente scomparso. A cosa serviva il vaso delle abluzioni? Serviva proprio a raccogliere in quest'acqua i frammenti piccoli, infinitesimali delle particole. Oppure quelle particole che purtroppo o cadevano a terra o erano talmente ridotte male da non potersi più ingerire. E perciò venivano messe dentro a quest'acqua la particola di farina si scioglieva col tempo. E l'acqua veniva poi gettata nel sacrario della chiesa. Il sacrario non è altro che un pozzo, un pozzetto. Un pozzetto accanto all'altare, sotto una botola, c'era praticamente la terra. E quindi l'acqua veniva versata nella terra, nella terra al di sotto dell'altare. Perché è un'acqua particolare che contiene i frammenti delle particole. Ecco un altro esempio di vaso delle abluzioni. Quindi quando un sacerdote tornava dalla visita agli ammalati, purificava la teca, i piccoli frammenti venivano messi dentro a questo vaso. Oppure quando doveva versare delle particole da una piscide ad un'altra più grande o più piccola, poi purificava la piscide e i frammentini venivano versati lì. Questo vaso in particolare è di metallo. Naturalmente l'acqua non può stare dentro un vaso di metallo perché lo rovina. Infatti all'interno c'è una coppa di vetro. Eccone un altro e con questa diapositiva ho terminato il discorso. In genere però io mi ricordo da bambino questo genere di vasi per le abluzioni. Se non proprio così, comunque fatti di vetro, completamente di vetro, a forma di anfora, lavorati molto bene, vetro molato, vetro anche rifinito in oro con dei fregi, col suo coperchio di vetro. Questa era l'immagine che ricordo io a grosso modo. E' stato tolto anche in seguito al fatto che l'attenzione ai piccoli frammenti di particole era calata, cioè si era più trascurati, addirittura arrivando a pensare che poi il Signore scomparisse da questi frammenti infinitesimali. Cosa che non è scritto da nessuna parte ma che la dice lunga sulla poca fede nell'Eucarestia. Tant'è vero che nel Vangelo c'è scritto raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Questo è nel miracolo della moltiplicazione dei pani. Si è lodato Gesù Cristo.